abbiamo ricostruito un po' la tua carriera post farmacia a un certo punto te partecipi mandi un video per gioco, partecipa a un provino per gioco quella è stata una storia pazzesca hai cominciato con la televisione, subito no, sì, io non ho neanche fatto mai una recità in parrocchia per farti capire, ma neanche all'asilo sai quelle cose che si fanno a Natale, che invitano i genitori mai, poi non si usava quando andava a scuola, io facevo elementare queste robe qua c'era un mio amico che si comprò una telecamera, molto grande perché all'epoca le telecamere erano grandissime erano con le cassette VHS e pesavano 3-4 kg di più pure tipo valigia la portò a casa era nel primi anni nel 1990 più o meno e porta a casa questa, noi eravamo a comitiva stavamo a casa sua spessissimo a casa mia, a casa sua, ci si riuniva amici a casa, porta questa dice ho comprato questa da poco aveva cominciato a lavorare aveva fatto un mutuo perché costavano l'ira di Dio ma la cosa meravigliosa è che noi avevamo la possibilità di fare la televisione a casa che adesso quei telefonini fa ridere, cioè dirlo entusiasmarsi tra amici fare un video dove ci riprendiamo tutti e ci vediamo in televisione sembrava una cosa meravigliosa abbiamo cominciato a fare i cretini davanti a sta telecamera tutti è venuto fuori un video più o meno divertente dove io facevo quello che ho sempre fatto io con i miei amici comitiva facevo il cretino cioè ce l'ho proprio dentro ecco quello è sempre venuto bene e allora questo video poi è piaciuto a tutti gli amici ce lo siamo duplicati perché si potevano duplicare mettendo due videoregistratori insieme si potevano copiare e ognuno di noi era rimasto con una copia di questo video fatto in casa a questo punto poi io un giorno stavo facendo il turno in farmacia quindi era un festivo un prefestivo non mi ricordo quindi a l'ora di pranzo normalmente si chiude stavo lì leggevo su Repubblica c'era la Dandini che stava preparando un programma nuovo io mi ero seguito tutte le cose loro scusate l'interruzione avanzi 1 avanzi 2 avanzi 3 la tv delle ragazze erano un gruppo geniale innovativo per l'epoca facevano una televisione molto avanti io li adoravo insomma li vedevo ma da spettatore leggo questa alla fine dell'articolo c'era se qualcuno si vuole proporre o ha qualcosa da mandare puoi inviarlo alla nostra redazione via dei settembrini che sta là vicino a via le mazzini io ho preso l'indirizzo ho preso la cassetta e gliel'ho portata ma senza nessun pensiero solo con il desiderio di conoscerli non ho mai pensato di fare poi andare a lavorare con loro o fare qualcosa con loro questi mi chiamano dopo neanche una settimana qui la redazione gli autori hanno visto la cassetta sarebbero interessati a incontrarla io ho pensato uno scherzo ho pensato lo scherzo di questo amico mio della telecamera perché lui lavorava alla RAI lavorava in contabilità però era un impiegato non è che però ho detto dico questo sai che c'è mi ha fatto chiamare da un numero da qualche amico suo perché io ho fatto uno scherzo al fratello io ho fatto uno scherzo al fratello l'ho mandato a un offerotorofio femminile che sta in Puglia avevo mandato una lettera alla madre superiore dicendo che ero la madre io di questo amico mio e che lui aveva dei seri problemi con le ragazze e che volevo organizzare un viaggio della speranza volevo passare al santuario e poi dopo portare lui lì a questo orfanotorofio dove magari c'era la possibilità di fare non ti dico è successo un casino perché sta madre che mi ha chiamato perché io ho messo tutto nome, cognome, indirizzo la madre quando mi ha visto l'altro po' mi si magna mi era saltata addosso ma era una storia vecchia questo ho detto questo si è bendicato per quello che ho fatto al fratello si non ti dico meraviglioso quello è uno scherzo riuscitissimo bellissimo la lettera se trovassi la lettera era stupenda scommovente ma la madre superiore che gli ha detto alla madre di lui quando l'ha chiamato ha detto che non si permette una cosa del genere perché li avrebbe denunciati perché lui descriveva e lei dice io come madre se intanto li possiamo mettere seduti vicino lui con una ragazza una qualsiasi anche non carina non importa era tutta una lettera così il giorno mi piacerebbe ritrovarla ma era lunghissima era tutta dettagliata con i particolari anche solo sfiorare mio figlio poi trema perché lui quando vede c'era Raffaella Carrà in televisione quando vede Raffaella Carrà in televisione dobbiamo abbassare la luminosità del televisore perché se no comincia a stare male era tutta una cosa così aveva delle eiaculazioni precoci che venivano così bastava vedere l'altro sesso e partiva quindi era tutta e questa si è incazzata a morte e io ho pensato questo invece no veramente mi avevano chiamato e mi volevano incontrare io sono arrivato lì due ore prima dell'appuntamento perché non mi sembrava vero mi sembrava una cosa assurda però poi quando sono entrato ero in ritardo di un'ora perché io ho capito alle fai conto alle tre invece l'appuntamento era alle due io sono arrivato all'una ho aspettato fino alle tre sono entrato e ho detto cazzo è tardi scusa sono alle tre io sono due ore che sta qua fuori aspettare vabbè sono cose mie io le faccio le faccio sempre è una cosa chi mi conosce lo sa e praticamente questi mi fanno c'era la Dandini con altri due autori Corrado non c'era quel giorno io l'ho conosciuto così poi siamo diventati il mio migliore amico mio fratello Corrado però ci siamo conosciuti così e mi dissero siamo interessati a questa cosa ci piacerebbe che tu facessimo una parte anche due piccole parti ma tu hai fatto qualcosa dico no io no mai nulla ma ti piacerebbe te la sentiresti di fare un programma in prima serata su Rai 3 in diretta che cazzo ti dico tu che avresti detto io ho detto sì poi sono scello ho detto ma che cazzo sto a dire ma che stai a dire ma tu sei scemo Marco vedete da solo in macchina cazzo c'avevo il motorino non c'avevo la macchina su un motorino mentre tornavo dico ma che cazzo ho fatto allora però da farmacista io sotto io allora la prima parte che ho fatto nella mia vita mi sono trovato quindi da zero Corrado mi volle sotto la scrivania gli faceva Emilio Fede non so se qualcuno qualcuno se lo ricorda qua stiamo a parlare degli albori sì c'è una manina vedi comunque andate a vedere sul replay c'è carino si chiamava l'ottavo no l'ottavo non è venuto dopo si chiamava tunnel lui faceva l'imitazione di Emilio Fede Franca Yolanda che poi a un certo punto per alzare l'audience tirava fuori da sotto la scrivania un bambino che ero io facevo Michelino c'era la felpa di Pippo c'era un cappellino con l'elica che avevo comprato da Faos Sparts a New York e lui praticamente trattava male questo bambino in diretta per che so gli rompeva le figurine gli rompeva il salvatanaglio gli fregava i soldi erano tutte cose così e io facevo stavo in ginocchio sotto quindi con i santini l'acqua santa le cose le gocce l'ansiolitico mi ero portato perché stavo malissimo c'avevo proprio sai quando uno ha l'emozione che non riesce a contenere dovevo stare là tutto il pezzo finché lui lo faceva arrivato Michelino Michelino che carino io uscivo da sotto la scrivania in ginocchio e facevo pisiu pisiu che carino che carino ha fatto il saluto del biscione allora Michelino allora Michelino è venuto quanti anni hai Michelino? otto anni ah otto anni che carino bene bravo allora Michelino cosa hai portato oggi? ho portato le figurine e i calciatori le figurine che tesoro mi fai vedere queste figurine le strappava io io e me li metteva sotto questo è durava un minuto questa è la mia performance ecco bene sta roba qua è stata devastante perché questo bambino questo Michelino se lo ricordavano tutti come si dice in gergo ha bucato il video quindi tutti io poi facevo la mia vita facevo il farmacista stavo in farmacia e allora io stavo là farmacia a fare ricette le cose che a certo punto venivano le mamme quei bambini e io li sentivo sì è lui è lui è lui è lui è lui è lui è vestita e travestita a mamma lui quando sta lì è travestita e qui adesso c'è il camera prima li sentivo che parlavano poi c'è tutto mio io lo fa pisù pisù e io dal banco c'è pisù pisù che bello che meraviglia è fantastico infatti è geniale non so neanche ho studiato tanto all'università fai pisù pisù che ce l'ho e insomma così è nata poi la mia carriera artistica proprio da quello perché poi ho continuato a fare farmacista poi Corrado fece una tournée a teatro mi chiamò per fare solo pisù pisù invece poi io feci da spalla a lui per tutto lo spettacolo che era 1990 quindi io l'anno dopo ho debuttato a teatro senza aver mai fatto neanche ripeto una recita parrocchiale in teatro con Corrado in tournée tre tournée abbiamo fatto due invernali due estive una di seguito all'altra e ho cominciato a fare questo lavoro è stata così poi ho preso proprio la decisione di lasciare tutto mollare tutto e mettermi a fare questo quando ho iniziato il distretto di polizia questa è stata ricordatevi che sono prolisso se fate così io smetto mi sta a fare corna perché scusa ah ok ah era così ah ok infatti pensavo ma che siamo nell'Italia degli anni 70 che fanno eh no però io però io io ho visto così io ho visto le corna ho detto ma sa che cattiveria gratuita però scusa allora quindi te cominci pisù pisù grande successo Corrado ti porta a fare la turnette fai tre turnette di fila ma se per fare il bambino stai con gli ansiolitici e stavi male poi dal vivo come stavi? allora a teatro avevo un salvagente siccome io non ero abituato a imparare le parti insomma non l'avevo mai fatto non era mio allora ci siamo inventati io facevo un poliziotto lui lui arriva dal futuro la storia 1990 si chiamava è stato fatto nel 97 stavano arrivando gli anni 2000 e quindi era epocale la cosa insomma voi l'avete vissuta non l'avete vissuta ce l'avete tutti vabbè non c'eravamo comunque che rabbia che rabbia c'è tutti molto più giovani e e allora praticamente io facevo questo poliziotto e quando lui arrivava sulla terra io lo prendo per un vagabondo lo arresto perché non ha i documenti non c'è niente lo porto in commissariato e lui comincia tutto un racconto tra l'altro è attualissimo se vi capita di andarlo a vedere pure quello mi pare che sta su replay o sta su insomma la piattaforma ci sta sicuramente è attualissimo l'ho rivisto recentemente ho detto minchia sta roba perché Corrado è un genio assoluto vabbè inutile che io ve lo dica è assoluto e io facevo l'interrogatorio a lui quindi facevo da spalla a lui io stavo seduto a un tavolino con la macchina da scrivere all'epoca c'erano macchine da scrivere c'erano già i computer però si usava ancora dei commissariati e macchine da scrivere battevo a macchina questo rapporto e c'avevo il copione a fianco quindi io mi leggevo tutto quello che dovevo dire sul copione e poi io lo dicevo e facevo finta che erano i fogli del commissariato ma era il copione quello e quindi avevo trovato questo espediente e con quello mi sono salvato ma a livello autorale cioè tu partecipavi anche alla scrittura o facevi solo l'attore in questa fase in questa fase facevo solo l'attore anche perché Corrado su questo lui è molto cioè lui si scrive tutto in modo dettagliato poi in seguito abbiamo anche fatto delle cose per esempio il caso Scafroglia ci ho messo anche molto del mio insieme lo facevamo ma in quell'epoca là poi ci conoscevamo pure poco quindi avevo un grande senso di reverenza nei suoi confronti perché per me era era e lo è tuttora poi siamo diventati amici nel tempo ma non mi sarei mai azzardato di cambiare una parola io rispetto a Copione assolutamente per questo pure ciavo l'ansia che non mi sarei mai azzardato